Allora ragazzi, giorno 27, siete tutti invitati al Palazzo della Provincia per incontrare tutti i giocatori della Vibonese, ci sarà anche Babbo Natale che vi darà tanti regali, ma tantissimi regali, venite con i vostri genitori, portate poi gli amici, tante persone, così saremo lì e faremo una grande cosa, ci sarà pure il nome della mascotte della Vibonese, non si sa chi è, però sicuramente dopo lo saprai, sarà una bella serata tra amici e tra i calciatori, i campioni della Vibonese, perché sono dei campioni quelli della Vibonese, quello che stanno facendo non lo fanno tutti, perché è così, siamo troppo forti, forza Vibonese alla 17.30 del 27 dicembre 2018, ragazzi adesso ho cominciato con l'idrottino ragazzi adesso ho cominciato con l'idrottino è il alle ho! è il alle ho!